Il primo compito che voglio assolvere è quello di cercare di farvi capire perché avviene l'evaporazione. Il titolo già anticipa il risultato finale, cioè che l'evaporazione manifesta l'incremento di entropia. È quindi un fenomeno termodinamico e cercheremo di capire le ragioni intrinseche. È un elemento importante del ciclo idrologico. C'è anche in Isaia, nella Bibbia, una parte che, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, e questa già manifestava l'idea che esisteva l'evaporazione e che serviva quindi ad alimentare poi le piogge nella continuità del ciclo idrologico. E questa sorpresa dell'evaporazione che avviene ha a che fare con la termodinamica da vari punti di vista, anche perché avviene una transizione di fase, cioè la transizione fase che fa passare l'acqua da liquida a vapore. Nel caso generale che noi andremo ad affrontare, avremo anche, oltre all'evaporazione vera e propria, che è quella dalle superfici liquide, avremo l'evaporazione che avviene dai suoli, che sono un mezzo poroso, e quindi l'evaporazione ne insuolia delle peculiarità che andremo e che cercheremo di rappresentare. E poi abbiamo invece la traspirazione. La traspirazione avviene attraverso la mediazione delle piante, in realtà anche gli animali, anche noi, traspiriamo, però questo nella nostra analisi è ritenuto irrilevante rispetto al bilancio complessivo. Le ragioni della traspirazione sono più complesse di quelle dell'evaporazione, cioè andremo ad indagarne alcuni aspetti in seguito. Gli idrologi usano questa parola, questa crasi di due parole, evapotraspirazione. Non transpirazione, come ho scritto qui, ma traspirazione. È una parola che chiude tutto perché noi non siamo, soprattutto quando guardiamo il paesaggio, non siamo in grado di distinguere facilmente i vari contenuti evaporativi da dove questi provengano. È una scienza tutta in divenire, questa, e finora quindi è prevalsa anche questo termine per cui all'interno della comprensione dei fenomeni. Viene sempre incluso un termine evapotraspirazione che significa quasi dire Ixuntleones, qui c'è una terra un po' inesplorata in cui c'è effettivamente la transizione di fase dell'acqua da liquida a gassosa, però non sappiamo bene cosa succede. Quello di cui siamo sicuri che è un flusso di energia, di acqua, quindi di massa, di vapore e rappresenta anche un flusso di entropia. E questo è il tema di questa prima lezione. Come avviene l'evaporazione? Beh, l'evaporazione, se cerchiamo di capirla, è una manifestazione del fatto che tutte le sostanze sono composte, in particolare i liquidi, da molecole. Queste molecole sono soggette ad agitazione termica per cui si muovono e sono trattenute all'interno del liquido dal fatto che sulla superficie del liquido rappresenta una resistenza ad uscire, anzi tende a trattenere le particelle al suo interno. Però la distribuzione dell'energia cinetica delle particelle all'interno di un liquido non è uniforme ed esistono alcune particelle che hanno un'energia cinetica superiore all'energia di soglia capace di sfuggire alla superficie. All'interno del liquido l'acqua è trattenuta nel liquido dai legami ad idrogeno, perché come sapete l'acqua è una molecola polare, da questa si traggono varie delle sue caratteristiche anche chimiche, chimico-fisiche. E comunque questi legami ad idrogeno si possono rompere e quindi in una parte si forma quello che è il vapore nella parte superficiale. L'evaporazione avviene continuamente al di sopra delle superfici liquide, ma direi anche al di sopra dei solidi, in quel caso si chiama sublimazione, anche i solidi in qualche modo, seppure in maniera minimale evaporano. Se quella che rappresentiamo fosse una pentola, ad esempio adesso è mezzogiorno, potrebbe essere l'ora di buttare la pasta, noi, beh, la nostra, che cosa succede? L'acqua nella nostra pentola evapora. Se noi aumentiamo la temperatura, in particolare la portiamo al punto di ebollizione, poi l'evaporazione ha uno sviluppo violento. Però se noi mettessimo un coperchio a chiudere la nostra pentola e la chiudessimo ermeticamente, l'evaporazione non continuerebbe, ma si fermerebbe. Infatti, da assegnato la temperatura, esiste una pressione di equilibrio fra il vapore, l'atmosfera immediatamente superiore alla superficie libera, esiste una quantità, una pressione di equilibrio che si chiama tensione di vapore. Nei sistemi naturali il coperchio non c'è, quindi le molecole una volta liberate dalle superfici liquide vengono portate via dal vento, in particolare da un vento che agisce in un sistema turbolento. La prima domanda che ci possiamo fare è, se non c'è nessuna forza che ha mosso il vapore da un punto di vista macroscopico, chi lo ha mosso? Potremmo andare a guardare come è fatta l'energia del nostro sistema di vapore. Se lo guardiamo nel suo complesso, possiamo dire che la variazione dell'energia interna du, che abbiamo reso qui che cosa? Dipendente da s che è l'entropia, v che è il volume, m è la massa, tutte le quantità estensive. Questa variazione di energia che cosa è uguale? Questa è la legge termodinamica di conservazione dell'energia, in una delle sue forme, che ci dice che è uguale la temperatura per la variazione di entropia, meno la pressione per la variazione di volume, che è il lavoro fatto dal sistema meno perché va a diminuire l'energia, la pressione si intende positiva se va a diminuire l'energia del sistema stesso e quindi se lo espande. Qui ho scritto dm, in realtà sarebbe dn, ma rappresenta la variazione della sostanza. Emu è un termine che è chiamato energia chimica, che noi abbiamo già usato in precedenza quando sono andato a spiegare le modalità di movimento dell'acqua all'interno del suolo e avevo introdotto questo termine che si chiama energia chimica. Dunque, questa è la nostra variazione di energia interna. Le variabili che io qui ho usato sono un po', se vogliamo, sono tre, cioè l'entropia, il volume e la massa. Quindi in questa rappresentazione, temperatura, pressione e anche mu, cioè l'energia, il potenziale chimico, sono funzioni di queste variabili. E questo lo stanno a significare le parentesi. com'è il nostro sistema precedente, cioè questo che abbiamo visto qui? Beh, apparentemente non c'è nessuna espansione del nostro sistema se prendiamo chiudiamo il volume di controllo, quindi dv è uguale a zero, non c'è nessun lavoro in senso classico. Se non è una pentola con il fuoco sotto, la variazione di energia interna, anzi costruiamo la pentola in modo che non scambi energia, allora la nostra variazione di energia è zero. Supponiamo che sia immersa a temperatura ambiente, che questa temperatura ambiente sia costante. Cioè qui, quindi non c'è nessun lavoro, non c'è t uguale a costante, dovremmo andare a sostituire che cosa succede, che cosa si ha all'interno di questa equazione. Lo faremo fra un attimo. Dobbiamo, in realtà dovremmo usare, se mettiamo, sostituiamo i valori dv uguale a zero qui, t uguale a zero, t uguale a costante qui, perché non c'è nessun lavoro dv uguale a zero, la cosa che otteniamo è t ds più mu dm uguale a zero, che non è un'informazione che ci dica qualcosa. In effetti dobbiamo andare a descrivere il nostro sistema in maniera più minuta. Dobbiamo assumere una termodinamica in equilibrio, sì, ma su parti più minute, non su tutto il nostro sistema, per esempio come potrebbe essere ciascuno di quegli elementi di griglia. Assumiamo che questa legge che abbiamo scritto valga per tutti gli elementi di griglia. Per ognuno degli elementi di volume vale l'equazione di prima, cioè e divideremo tutte le quantità grandi, che prima erano U grande, S grande, M grande e V grande, le dividiamo per V. E mentre le altre quantità le definiamo con i termini piccoli. quindi questa quantità t ds per mu dm uguale a zero vale localmente. Che cosa significa t ds più mu dm uguale a zero? Beh, t ds più mu dm uguale a zero in realtà significa nella termodinamica del non equilibrio che la variazione temporale dell'entropia nell'unità di tempo moltiplicata per la temperatura più il potenziale chimico per dm, che è la variazione di densità, deve essere uguale a zero. Questa è la nostra equazione che vale su tutti gli elementi del volume. Per ottenere l'entropia grande dobbiamo integrare su tutto il volume l'entropia S di P, T e X. Questa volta ho anche fatto un cambiamento di variabili in modo tale che, un po' misterioso, sono passato dalle variabili S, V e M alle variabili P, T come variabili indipendenti. Quindi andiamo a integrare la nostra sommare, la nostra entropia, su tutti gli elementini piccoli. Allora l'equazione che avete scritto in alto diventa T ds grande, questa volta che è l'espressione sommata, su dt, la variazione di entropia su tutto il mio volume, che cosa è uguale? È uguale a mu che viene integrato su tutto il volume, quindi su dx, in questo caso dx segnato come vettore, per dire sarebbe un dv, per drò su dt. D'altra parte noi sappiamo anche come funziona la legge di conservazione della massa, cioè drò su dt più la divergenza del flusso uguale a zero, qualunque sia il modo in cui noi calcoliamo il flusso J di X. E poi andiamo a vedere che cosa sia. Noi questa equazione, l'abbiamo già vista quando abbiamo derivato in precedenza l'equazione di Richards, è esattamente la stessa equazione. Cosicché, come risultato, la nostra equazione per il nostro volume di controllo è adesso T dS su dt uguale a che cosa? Uguale all'integrale che sta a destra, che è mu per la divergenza di J in dx. Come è fatto questo J? Beh, questo J, c'è uno studioso che per questo ha anche preso il premio Nobel, che si chiama Onsegger, che dice che il nostro J è uguale ad una certa L per C, che è una concentrazione, per il gradiente del potenziale chimico. E questo noi lo prendiamo come un dato di fatto. C in particolare è la concentrazione di vapore. Un momento. Ok. Ok. E' giusto come ce l'ho adesso, con il meno. Cioè la domanda è, se ho ben capito, se qui va il meno o il più va il meno. Dunque, questa ho questa relazione che mi dice come è fatto il flusso. Come è fatto il flusso. Se vado quindi a sostituire questo flusso, beh, in realtà per il gradiente di mu ho un'ulteriore espressione. E il potenziale chimico, anche questa espressione noi l'abbiamo già vista, è esprimibile come un potenziale chimico di riferimento, perché si tratta di un'energia, più R che è la costante dei gas, per T che è la temperatura in Kelvin, per il logaritmo naturale, di un rapporto che noi avevamo visto tra attività chimiche, ma che qui possiamo esprimere come rapporto fra pressioni, una pressione parziale di riferimento è con zero, e la pressione parziale relativa al vapore nella posizione X del nostro volume. In ogni caso, se noi espliciamo le nostre espressioni di J all'interno dell'equazione precedente, otteniamo e poi attuiamo una cosa che qui è nascosta, che è un'integrazione per parti, e che quindi si mangia un segno meno, tra l'altro. c'è un'integrazione per parti che qui non è stata presentata qui, ma che porta a questo risultato che vedete rappresentato, otteniamo come che T dS su dt è uguale all'integrale che avete a destra. La caratteristica principale dell'integrale che vedete a destra è che ha il quadrato del potenziale chimico e il termine è positivo. Qualunque sia la soluzione di questo integrale, ciò significa che dS su dt è uguale a questo termine che è positivo diviso la temperatura. Quindi la mia entropia cresce sempre. Qualunque sia il valore numerico che andiamo a verificare, T la temperatura è positiva, l'integrale è composto da tutti i termini positivi, la variazione nel tempo dell'entropia è positiva. Come siamo partiti per ottenere questa equazione? Siamo partiti dal bilancio di energia. Quindi otteniamo due risultati. Una che è quella che l'equazione ci dice che l'entropia cresce nel nostro sistema. Cresce con il tempo. E l'altro è che questa equazione che mi descrive l'aumento dell'entropia è l'equazione dell'energia, che potrebbe essere un risultato non ovvio dalla termodinamica dell'equilibrio, perché nella termodinamica dell'equilibrio l'aumento di entropia è un principio, cioè si dice che il sistema all'equilibrio ha entropia massima compatibilmente con i vincoli in cui si trova il nostro sistema. Qui invece nella termodinamica dell'equilibrio di cui l'evaporazione è una manifestazione, abbiamo che l'entropia cresce perché questo è dettato dal comportamento del bilancio di energia. L'energia è conservata, implica che l'entropia cresce. E questo risolve anche un altro problema, cioè ci dice che il nostro sistema si evolve aumentando l'entropia e la ragione ultima, se vogliamo vederla da un altro punto di vista, la ragione ultima quindi del fatto che avviene l'evaporazione è che l'evaporazione comporta questo aumento di entropia che è consistente con l'equazione di energia scritta per la termodinamica del non equilibrio del nostro sistema. Il nostro sistema qui è particolarmente semplice, lo abbiamo ottenuto facendo grandi approssimazioni, in particolare abbiamo assunto che non ci fosse scambio di energia, non ci fossero alcun lavoro fatto. Quando il fenomeno dell'evaporazione avviene in natura, tutto questo avviene in modo complicato in cui tutte le variabili variano, ma l'essenza della cosa è proprio questa. E quindi la prima conclusione che noi otteniamo, l'evaporazione avviene perché è una manifestazione, se vogliamo, del principio di massimizzazione dell'entropia del nostro sistema e rappresenta il fatto che tutti i solidi e tutti i liquidi sono composti da molecole.